Mediamente a testa vanno via 1.000-1.500 euro E perché noi dopo compriamo una pizza d'oro? Faccio vedere il calciabrico Ah, si muove un po' Eh, non male eh Buongiorno da Portocervo Stamattina lì abbiamo visto l'alba Uscito fuori il sole Molto molto bello Se volete vi lascio qualche foto qui Voi non avete idea di quante cose abbiamo fatto questi giorni Abbiamo guidato macchine di lusso Abbiamo guidato dei mostri da battaglia Che probabilmente vedete sul canale più avanti Abbiamo fatto tantissimi video su degli yacht Voi pensate che siamo venuti in vacanza In realtà siamo venuti a girare dei video Perché a me personalmente piace Cioè a me piace condividere quello che faccio Quando non sto con la videocamera in mano Quasi mi pesa non condividere quello che faccio Comunque, benvenuti in questo secondo video della Sardegna Da Portocervo ci sposteremo oggi alla Maddalena Per farci ferragosto lì Andremo ovviamente oggi in barca Perché non abbiamo ancora mai preso una barca Abbiamo trovato un amico che ci fa una barca di favore Anzi, un gommone E ci ha raggiunto Signor Tuzzo Tuzzo Puoi dire tutte le parolacce che vuoi Tu sei adibito a dire parolacce Ok La situazione di valigie è un attimo degenerata Diciamo che 5 persone con tipo 2-3 valigie a testa Sono troppe Prima esperienza di questo video Giri in gommone E questo qui è il gommone Partiamo con l'isola delle bisce E poi vediamo gli altri, ok? Riesco a stare in piedi Sta piottando fortissimo Aiutami bro Oh, oh Sta cercando di rimanere in piedi Ma con tutte le onde è molto difficile Meglio stare sbagliato Diciamo che qua muri non ne possiamo prendere Ah, ho preso il muro o no? Porca vacca Siamo arrivati all'isola delle bisce Qui, pezzo di ora Prendiamo un tuffetto Guarda davanti a quanto è bello il mare Sascha, arrivo Faccio un backtrip Mamma mia Ma che schierata Guarda 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 Uno, due, tre Non è andata così male però Siamo a calacavetta E ci siamo fermati perché ho veramente troppa fame E devo mangiare Bar ristorante da libro Classico momento di indecisione Dove si deve scegliere cosa mangiare Io sono attratto da questi spaghetti all'aracosta Dal tris di carpacci Ciao, allora io prendo Un tris di carpacci Le cozze gratinate Poi dividiamo Io e lui Spaletti all'aracosta 200 grammi E' pasta o totale Un altro tris di carpacci Quanta roba Il pane carasau Cozze Che bello è Abbondante questo Cozza gratinata Buono Buono Posso aggiungere anche il carpaccio Uguale proprio Pepe rosa Cipolla Questo carpaccio di salmone È la fine del mondo È veramente veramente buono Adesso assaggio proprio con un pezzo di cipolla E anche con un cappero È probabilmente Uno dei carpacci più buoni Che ho mai mangiato Se il tonno è buono quanto il salmone Buono pure il tonno Abbiamo trovato un po' sicuro Niente male Com'è? Sembra? È un carpaccio veramente veramente buono Lo sento in sacco È molto sapore di tonno È vero? È botto La cipolla poi io ci vado a notte Adesso non devo limonare nessuna Questa è l'aracosta La faccia è l'ucazza Tu bottarga e bongole Tu scoglio Lo scoglio Lo scoglio E tu? Io lo devo mangiare con te Assaggerai Questo spaghetto con l'aracosta Questo accento mi piace Molto molto buono Molto molto buono Godura Veramente buono Proviamo allora cosa sta Ci sta Si sente che buono Comunque ho riordinato il carpaccio Era troppo buono Potrei fare una domanda A tutti quanti Ma dopo aver mangiato così tanto Sapete che dobbiamo tornare a ballare sulla barca? In breve L'ultimo che vomita vince Ci sto E si riparte Cos'è che dovremmo fare? Scusami Devo saltare tipo da là in alto Il problema è che il fondale è 3 metri Non si può fare Allora scendiamo di uno step Dove c'è il verde Non so se si può fare Per la sporgenza Male male dove c'è il tipo L'impiede Andiamo? Faccio l'estamento Dottor mio canale Va a te Andiamo In tutto questo Abbiamo appena mangiato Vabbè Proviamo 90 kg di bomba Guardi tutto il tipo per lei Che non vuole lanciarsi Tu ti vuoi lanciare? Subito Vai Lancia Senza pensieri Non ci chiederete? Mi ha chiesto un passaggio Sulla moto d'acqua A lui E mi ha detto di sì Basta chiedere Portami dove vuoi Non male eh Minchia che brutta vita Che brutta vita Ogni mattina mi do l'altà Mi ha lavorato È stato veramente Veramente figo Ti ringrazio Per un giorno di potermela compagnare Anch'io in Siamo Noi Yacht Un giorno magari L'ultima clip è stata quella Della moto d'acqua Che figata Non me l'aspettavo Cioè è bastato chiedere Non mi conosceva E mi ha detto Vabbè dai fatelo un giro Cioè sono senza parole Comunque è stata veramente Una grande esperienza in barca Nulla avevo mai fatto in questo modo L'ho fatta l'anno scorso Molto molto diversa In Puglia Qui è stato veramente fantastico Soprattutto con gli amici È tutto Tutto più bello Sì E sapete come concluderò Al meglio questa esperienza? Con un biscotto proteico Foice Minchia oggi ho mangiato pochissimo Ho veramente troppo fame Se non l'avete ancora provato Vi lascio gli sconti in descrizione Direttamente per il biscotto Spuntino da Porto Cervo Ci spostiamo sulla Maddalena L'isola della Maddalena Che sta sopra la Sardegna In cui abbiamo preso casa Tutti e cinque E io direi di andare Perché comunque Si è fatta una certa E indovina? Eh sì C'ho fame Tu lo sai che una cosa Che dico sempre nei miei video È che c'ho fame? Sì Però loro pensano Che sia una battuta Che sia un personaggio No lo sanno Ho davvero fame? Io la vivo mal Che ho fame Mi ero quasi dimenticato Che comunque noi Abbiamo fatto after La scorsa notte Cioè mi ero dimenticato Che non avevamo dormito Questo piccolo dettaglio Siamo a Palau E stiamo partendo Per la Maddalena Eccoci arrivati Alla nostra Umidissima villetta Sono curioso Di vedere com'è dentro Questa L'altra era meravigliosa Beh 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 Vediamo le stanze Beh Noi abbiamo Certo Certo Sempre per rimanere umili Oltre questo enorme salotto C'è un giardino Poi ve lo farò vedere di giorno Ma è bello grande Lì c'è una cosetta Che ci possiamo fare le trazioni Lì c'è il trampolino Ma di tutta questa roba Di tutta questa casa A noi interessa solo una cosa La cosa più bella Che potesse mai capitarmi In questa vacanza Ci sono i pesi Ci sono C'è la chiesa Finalmente potrò allenarmi di nuovo E comunque se ve lo steste chiedendo No Nel risero non siamo andati a cena Ci siamo addormentati Alle dieci e mezza E ci siamo spiglietti di pala e sette Finito il gioco Ci si allena dai Dai Sei stanco? No Eh? Dai mangi e spingi dai Soldato Vuoi mangiare con me? Devi spingere con me dai Su Ancora Dopo lo spingi Arrivato ovviamente il momento del magna Qui sto facendo le zucchine Sul tavolo c'è il miglior pane cattiavo della storia E fuori qui abbiamo l'addetto alla griglia Cosa abbiamo chef? Amburrier di manzo Salsicci di tacchino e pollo Con un po' di suino per amalgamare Controfiletto di scottona E ovviamente Non è un barbecue senza Due rosticini Giusto due Giusto due Sono tipo Otto o nove a testa Buon appetito Buon appetito Prima portata hamburgerino Essendo oggi ferragosta Pranzo un bel barbecue E a cena Proverò a trovare qualche posto da andare a mangiare Perché ieri era veramente tutto tutto pieno Guarda l'uomo della griglia Zanzare mi molestissi Hamburrier col pane cattiavo Spazzati brutto È lo stricino di pecora buono Soprattutto perché l'abbiamo cucinato noi E dopo pranzo che stiamo facendo? Riconta un po' Stiamo andando a Marco Carpentieri DJ Mi amico Ok Sono in un bellissimo posto Siamo invitati speciali? Che bello Adverti vino Tac Come i veri milanesi Eccoci Oddio Ma drifta sto coso Bella la vista comunque Vabbè dai Manco male Fra sei morto No no raga tranquilli Buonasera Buonasera La bella vita Ordiniamo? Io ordinerei Maga papà Fai sverso Certo Io sono disoccupato Mica male questo Mi piace Ci potrei vivere Sono il più povero della spiaggia Sai che ora ci facciamo il bagno Però di là Comunque casualmente Senza preavviso Ci ritroviamo alla scogliera Penso il ristorante più lussuoso Di tutta la Sardegna Me l'ha detto prima il proprietario Viene Ronaldo Sono venuti tutti qua Quello che c'era lo yacht gigantesco Anche lui è venuto qua a mangiare Mediamente a testa vanno via 1000-1500 euro E perché noi dopo compriamo una pizza d'oro? Chissà perché 100 euro con bottarga Gambro di mazzara del ballo Burrata e foglia d'oro Comunque Bello ordinare il cocktail no? Così Cocktail con bella vista ma Cioè avete pensato che questo coso sta 32 euro? Tutti e tre vero? No no uno Ah Allora voglio bere più Ma frevava poi Dovrei sapere che in questo ristorante Braccio destro del proprietario Ci sta facendo fare tutto Cioè siamo andati in gommone Stiamo girando Abbiamo fatti i tuffi Ci danni cocktail È figo Però io non posso accontentarmi di cose offerte Ecco perché con molta probabilità Mi ordinano una pizza Tipo 100-150 euro Comunque mi hanno raccontato Che il tizio del giga yacht Quello da yacht da 165 metri Più grande al mondo Viene qua a mangiare Cioè Mi hanno anche raccontato Che lì nel ristorante Questo qua si chiama sempre Il ristorante La scogliera Il più lussuoso Della Sardegna Cioè non lussuoso In senso Lussuoso In senso costoso E rinomato Cioè tutti vogliono venire qui Ed è anche difficile prenotare Soprattutto trovare posto a Ferragosto Non so come abbiamo fatto Comunque tavoli importanti E quei ristoranti Spendono un minimo di 8.000 euro Fino tipo a 12 14 15 20.000 euro E vabbè In tutto questo Noi ci siamo presentati qua Senza maglia In verticale In verticale Saltellando Ballando Con quelli pazzi Mi chiamo il DJ Mi chiamo Marco Console A posto Facciamo sempre le nostre belle figure Perché noi Ci dobbiamo far riconoscere Pazzesco di figa Pazzesco di figa È il momento di andare a mangiare Voglio provare questa fantastica pizza Mi stai dicendo che non sono vestito bene Per questo posto No sono vestiti bellissimo Perché sono di roma su Perché tu Vivo a Milano Come dico sempre Puoi togliere un ragazzo da Roma Sud Ma non puoi togliere Roma Sud Dal ragazzo Ma mi ha detto che sono vestito da Roma Sud Un po' Sei nel posto più lussuoso Della Sardegna Per quanto mi piace L'ignoranza Sei in canottica Ti metti la vivia Ti voglio bene Ma effettivamente sei un po' da Roma Sud Ma aspetta Mamma mi odia Roma Sud No L'hai detto tu Mi dissocio C'è da dire che effettivamente Tutti questi giorni Quando vado a cena Sono sempre lì Con la camicia Pantanoi lunghi Mi sto adeguando un po' Agli ambienti Dove vado a mangiare Ai tempi che andavo in canottina Nei ristoranti Però stavolta Eravamo qui Ha detto Mangiate E questo è l'outfit raga Buonasera Comunque la vista che ho davanti È molto bella Da menù proponiamo La classica margherita Invece una pizza Con il gambero rosso Di mazzara del palo E una burratina Oppure la pizza gourmet Con le acciughe E tartufo nero di norcia Lamellato espresso All'uscita nella pizza E ho visto dal menù Che c'era quella con Gambe rosse di mazzara del palo Burratina E la bottarga E la foglia d'oro Quella lì io voglio Quella con il tartufo Vai mi piace Buon ero di norcia Complimenti Sì volentieri Non t'ho appena speso Dicendo sì Non lo so Forse il tartufo Non mi piace Potresti ripetere La scelta sbagliata Che hai fatto nella tua vita In questo momento No Io dico Tra i 70 della margherita E i 110 della pizza con l'oro A sto punto Potevo prenderla Quella con l'oro C'è Ciao ragazzi Sono Massimo Davanti a te c'è una pizza Che intanto è fatta Con una farina a petra A 48 ore di alimentazione Lievito madre Porta nel forno a legna Abbiamo una base De la serena di bufa Burrata Gambello rosso Bottarga E foglia d'oro De la serena di bufa Acciughe del cantabrico E tartufo Tartufo e acciughe Ok il tartufino sopra Ricorda di umiltà Voi con la vostra Umile margherita Adesso 70 euro di margherita Vorrei provvedere Non ho idea di come Poter gestire questa pizza Allora Toglierei la coda Prendere la coda a parte Vorrei ricordare a tutti Che il gambe rosso di manzara del vallo È uno dei miei piatti preferiti Assolutamente il mio pesce preferito Poi Prendiamo la testa E Ma raga lo morderei È buonissimo Assaggiamo la pizza con l'oro Gambello rosso di manzara Burratina E buttarga La pillola Grazie mille Grazie mille L'impasto Arriviamo del tipo di impasto che piace a me Napoli Com'è l'impasto della pizza? Piepito madre Buono buono Allora non è la pizza classica napoletana È più una casertana Un po' più gourmet Ti piace? A te piace? Come lui Che sta facendo tu? È troppo buona per me È troppo bella Effettivamente se vuoi possiamo fare cambio Io ti do Una peppa No un coltello E tu mi dai la pizza Non accetterò mai Stupido ragazzotto No No La consistenza del gambo è assurda Ricorda visivamente Tralasciando i colori Un po' quella di cracco Vai all'assaggio Adesso non hai capito Come fare lì? Guarda quella di nonna Tua nonna fa stilizze Tua nonna è forte Stai per mangiare il tartufo così? Non si fa È un sapore un po' strano così da solo Fa di fungo è buonissimo Sì sa di fungo È un fungo un po' particolare Io proporrei uno scambio Vorrei con questa o con quella fetta Cambio di questa fettozza Smaggiamo la pizza di Sasha Con tartufo, mozzarella e acciuga È diversa Saffa si può sempre migliorare Molto buona Pasta leggerissima Questa è quasi più buona della mia Anzi forse è più buona della mia Ma c'è un motivo il pomodoro Il pomodoro qua è la fine del mondo La fine del mondo raga Opinione sincera Secondo me Se sotto la burrata Al posto dell'altra mozzarella Ci fosse stato il pomodoro Sarebbe stato proprio la pizza più buona di tutta Il pomodorino dolce Avrebbe spaccato Posso chiedere se le è piaciuta? Se ne vale la pena? È buona come quella di nonna Ma lo dici per non offendere tua nonna O per non offendere lo chef? No no Per rilevare entrambi Vista top Questa in parte invece è sempre buttarga Solo che non è fatta in polvere come quell'altra lì Io l'assaggerei Particolare Sascha potresti? Particolare Sarebbe usato su una pesca Sarebbe che non è male alla fine E che fai? Concludi con un bel milto sardo Aiuto Cosa sta succedendo? Che hit È quello che penso Vai Due meringhe sovrapposte All'interno della crema di chimie Della frutta fresca Meringhe Io amo le meringhe E chiudiamo con questo Che è del scioccolato L'azenzero Adesso tocca a voi Dovete di fatto rompere La sfera In modo che tutti gli ingredienti Fra loro Comerò un po' Sì sì Così si generano le pelle Ah ah Che bello è Com'è? Io amo le meringhe quindi Come assaggiano un po' La meringa A chi ama le meringhe? Mantot Questi sono i miei dolci più buoni Sempre Allora Alex mi ricorda Il dolce di Gordon Ramsay Effettivamente non è buono quanto quello Ma è veramente Di un livello altissimo Non lo so dove vuoi Gordon Ramsay Tieni con tutta la mia gentilezza È una Meringa divina Meringa No L'ha fatto L'ha fatto L'ha fatto Facciamo che non ci fai cadere Cannella Ti rimbarca Per concludere la cena Quello è il ristorante Devo dire che quello è un unissimo yacht Ecco la prima cosa ha dovuto pensare lui è Il figlio deve essere un basino yacht Bello Sembra tipo Santorini È come immagino Venezia Scenetta finita Costava un tot sta cena 5 piotte di cena Ringraziamo il nostro contatto Marco che ci ha fatto entrare oggi qua Grazie a Sasha che è l'amico di Marco Marco Carpentieri Su Instagram Marco Carpentieri Il plug della giornata è lui Esatto Lui è il plug della Maddalena Lui è il meno Ti ringraziamo che ci hai fatto fare questa esperienza meravigliosa In questo ristorante Buongiorno Dobbiamo lasciare la nostra villa qui alla Maddalena circa tra un'oretta Ma mi sono alzato presto per allenarmi un po' Comunque ci stiamo dirigendo direttamente dalla Maddalena Di nuovo a Portocervo per fine dei video Sì in realtà noi abbiamo detto che siamo in vacanza Ma stiamo girando tipo un video al giorno A volte anche due Perché in realtà io pensavo di voler fare una pausa dei video Ma a me mi piace riprendermi Cioè mi piace registrare quello che succede nella mia vita Mi piace condividere Era proprio questo il motivo per il quale ho aperto il canale YouTube Condividere quello che era un po' la mia vita Le mie passioni e varie cose Comunque spero che questo secondo video Sempre un po' luxury qui alla Maddalena Il ristorante più lussuoso e più costoso della Sardegna Quindi io vi dico Ci vediamo nel prossimo video Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi Lasciate un like se volete E soprattutto lasciate un like Ci vediamo nel prossimo video